Ecco, questo io di solito prendo l'avversario, lo pianto nell'angolo, no? Poi di solito se sono stronzi li li va anche nell'orecchio. Dovremmo bere un podcast. Ma c'è, sono un podcast. Un podcast. Da W Cash. Bello, era un po' che non lo facevi. Ti piaceva? Era un po' che non stroppiava i nomi, eh? Sì. Oggi puntata... Sei in forma? Esotica. Esotica. Da cosa lo dici? Com'è? Da cosa lo dici che è esotica? Dal mio costume. Ma ci sei anche tu. Non è che mi avete incluso troppo nel discorso, mi avete messo qui come un soprano. Siamo così all'inizio. Mi sono vestito come una drag queen coi muscoli, se vedete ho tirato fuori il costume, le ho pardato. Non puoi dire drag queen che Yuri si eccita in 0-2. Sì, sì, sì. Ognuno gli piace. È che lui non le accetta determinate cose di se stesso e quindi va a scredita. Però a me non piace Yuri. Sei più un tipo da Ale? È biondo. Sì, dai. Biondo non so se ha con occhi azzurri perché ha gli occhiali. No, non può togliere gli occhiali. Non puoi togliere gli occhiali. Non puoi togliere. È tipo la tua maschera. Il fatto che non ci sia al sole mai gli occhiali è umiliante? È umiliante. È molto umiliante. No, no, scusate. Detto questo. Lo presentiamo e poi facendo una cosa. Se volete magari. Oggi abbiamo con noi... John Cena. Ray Mysterio. Siete partiti proprio prendendomi per il culo alla maschera e quindi a Ray Mysterio. Si pigliano per il culo da soli, vedi? No, no, no. Con Red Scorpion. No, grazie. Che non è John Cena e non è Ray Mysterio, ma è Red Scorpion, un personaggio di tutto rispetto. Italiano unico che porta avanti l'immagine dell'Italia sotto il punto di vista del wrestling. Nel mondo, assolutamente. Cazzo grande. Doppia parola non ho mai fatto per un ospite. Anche per il sì. Prima volta. Se posso dire, io non sono mai stato... Cioè non ho mai seguito tanto il wrestling. Esci. Non l'ho mai seguito prima di conoscervi il Red Scorpion. Questo è umiliante. Un po' sbagliato. No, nel senso, scusatemi. Ma la vera umiliazione è il fatto che l'unico italiano che io abbia mai conosciuto è veramente umiliante da quello che fosse Santino Marella. E non è... Sì. Non è italiano. Allora, è canadese. Cioè è canadese. Appariva come italiano però, no? Sì, gli hanno fatto fare la parte dell'italiano, parla un pochettino italiano, qualcosa. Però è un gran spaccaculi. Cioè nel senso, anche quando tu vedi... Sfattiamo un mito. Anche quando tu vedi un coglione in televisione che fa delle robe stupide, probabilmente questo lottatore qui, è un killer. È cintura nera di judo, maestro di grappling. Adesso non so, avete presente... Cos'è grappling? Grappling. Prese? Le prese, esatto. Non so se avete presente tipo Undertaker. Certo. Benissimo. Lui è cintura nera di Brazilian Jiu Jitsu. Santino Marella, probabilmente sarebbe potuto andare alle Olimpiadi per il judo, quindi uno che ti prende e ti spezza le ossa. Che poi lui abbia un carisma innato e gli abbiano fatto fare la parte dell'italiano coglione, che poi ha avuto un gran successo, è un altro discorso. Cioè quando combattuto... È stegiata come cosa, nel senso non è che se lo sceglie lui il personaggio, ma qualcuno glielo sceglie. Allora, il personaggio deve essere qualcosa che risuona bene con te, cioè è un'attitudine che tu hai e dopo ovviamente ti fanno fare la performance sul ring, però un personaggio che funziona è uno che sa trasmettere qualcosa al pubblico che non è solo il wrestling, cioè il vero wrestling è quello che c'è tra una mossa e l'altra, quindi quando uno pensa alle mosse dice, ah, Rey Mysterio da 619. No, Rey Mysterio è diventato famoso perché uno dei pochi mascherati al mondo che riusciva a comunicare emozioni e perché la gente si poteva interfacciare con lui perché era l'underdog, il piccoletto nel mondo dei giganti. Mettiamo il caso che tu sei un operaio che lavora in fonderia, non sei Rey Mysterio, ma sei un piccoletto nel mondo dei giganti e quello per Rey Mysterio ha funzionato, cioè lui ha sempre preso un fracco di botte, ma è arrivato a vincere il titolo del mondo. Quello ha fatto in modo che Rey Mysterio diventasse un personaggio unico rispetto a tanti altri mascherati. John Cena quando è partita la sua carriera, grossissimo, bodybuilder, impressionante, non se lo cagava nessuno, era a tiro di licenziamento e mi ricordo la storia che ha raccontato, era in pulmino, ha iniziato a fare freestyle, ha iniziato a fare del rap con degli altri lottatori, il presidente, la figlia del presidente l'ha sentita e dice, ma perché non fai sta roba in televisione, gli hanno fatto fare una prova e è diventato John Cena e lui aveva già quello nel cuore, cioè lui faceva canzoni e lo stesso identico lottatore, anzi quando ha iniziato un sacco di mosse, un sacco di flex, un sacco di pose, niente, la gente si è innamorata di lui perché faceva il rapper, perché rappava in quel periodo lì, i bambini, cazzo, il rapper è bellissimo, in più fisico, impressionante, uno dei migliori fisici di sempre e allora devi trovare qualcosa che crea un appeal nel pubblico, perché un lottatore che arriva solo come lottatore, prende le botte per quelli che hanno trovato la loro identità. La grande differenza diciamo che la fanno le capacità attoriali, quindi oltre che la prestanza fisica, le capacità fisiche. Più che la capacità attoriale che ci vuole assolutamente, cioè la capacità di modulare la voce, la capacità di improvvisare, non ci sono ciac, non ci sono... No, 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 ti danno dieci minuti, tu vai, fai quello che devi fare, molte volte è improvvisato, quindi non è il wrestling, è coreografato, molte volte è improvvisato, come improvvisano i lottatori, questo è bellissimo ed è difficilissimo in base a quello che sentono dal pubblico. Alla reaction. Quando uno riesce a masterizzare, io ormai è vent'anni che lo faccio, ho iniziato a capire come farlo negli ultimi anni, negli ultimi anni, cioè è una roba difficilissima, cioè tu senti il pubblico in silenzio e allora paradossalmente cosa fai? Crei un momento di sottotono, un momento dove non fai niente. Come la danza. Sì, allora il pubblico, cazzo ho pagato il biglietto, iniziamo a fare del bordello, fai del bordello, inizia a muoverti, allora colleghi nel pubblico la cosa che se io faccio del rumore e sostengo l'avversario, sostengo questa persona, lui allora trova la forza di reagire. E allora il pubblico dopo è nel palmo della tua mano, qualsiasi cosa che fai, tu lo porti su, 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 poi bam, a terra di nuovo il pubblico. E dopo ci si mette il cattivo, che è il mastermind dell'incontro, è quello che dà i tempi, è quello che permette al buono di capire come sta andando la situazione, è quello che può muoversi sul ring dove vuole, è come gli scatti, il buono si può muovere solo avanti, non può andare indietro, il buono non può colpire alle spalle, può solo andare avanti, il cattivo può uscire, può andare dal pubblico, può scappare, può rientrare, può andare sotto il ring, può dire quello che vuole, può fare quello che vuole, possibilmente senza farsi vedere. Queste sono le regole, non regole del wrestling per regalare spettacolo, cioè la regola è tu mi metti un braccio, io tocco le corde, l'arbitro dice di mi devi lasciare. Quelle sono le regole per il pubblico, per capire il wrestling. Spalle a terra, uno, due, tre, ok? Le regole invece dei lottatori è tu sei buono, non colpirai mai l'avversario alle spalle, quando colpisci non puoi fare mezzo passo indietro, devi sempre fare mezzo passo avanti. Ok. Quindi c'ha tutte le sue regole, è tutto body language, perché ovviamente uno può parlare, può dire quello che vuole, ma è come lo dice, e quindi il fisico, i movimenti creano questo hype, questa aurea, che è difficilissima da creare, infatti pochi lottatori ci riescono. Dwayne Johnson, The Rock, è un altro che ha capito esattamente come fare. È uno che può dire qualsiasi minchiata possibile, diventa virale, la mettono su una maglietta e fa i milioni. Pazzesco. Io faccio una domanda per fare un ultimo passo indietro, che potrebbe essere anche una domanda da stupido. È già deciso chi vince l'incontro? Allora... Cioè è tutto organizzato, insomma. Allora, partiamo dal presupposto che è... Esempio. Chi ha vinto il match tra Rocky Balboa e Ivan Drago? Il match finale. Rocky Balboa. Rocky Balboa. Ma ti svegli il match finale? Ma si vede che non ha detto un cazzo. Io ve lo chiedo perché non so la risposta, e questa cosa è umiliante, però qualcuno avrà vinto. Anche io non la so. No, no, qualcuno avrà vinto. Ma facciamo finta che abbia vinto Rocky Balboa, però noi stiamo parlando di un vincitore. Nessuno dice, è Sylvester Stallone, ha preso un pugno per finta, si è girato in camera. Quindi che cazzo se ne frega se il wrestling è predeterminato? È una storia e non è, mi chiamo Fabio, non è Fabio che combatte con Giovanni. È Red Scorpion che interpreta un incontro in cui il pubblico deve credere. Se no nessuno guarderebbe la Marvel. È ovvio che, non so, Tom Holland non può lanciare, che ne so, le ragnatele dal braccio, dal penne, da dove le lancia. Non può farlo. Però tu ci credi e spendi soldi e lo guardi. Quando è morto Tony Stark? Io penso che mezza popolazione mondiale non sia scomparsa con uno schiocco di dita ma abbia pianto. E lui non è morto, ma ha creato nella gente quel pathos, l'eroe, qualcuno che muore per te, è disposto a sacrificarsi per te. E perché hanno scelto lui? Non ci avete mai pensato? Perché in tutti i personaggi della Marvel è sempre stato considerato quello più egoista, più staccato, a cui non dai credito. E invece ha fatto il gesto che dice di salvare tutti. Io di lui non ho capito. Mi piaceva perché aveva i soldi. No, mi piace perché è un eroe. E quindi è il re degli eroi. Non è Thor, non è Hulk, non è un cazzo, non ha nessun superpotere se non i soldi. È un umano. Quindi nel film della Marvel ha vinto il genere umano. Nessuno pensa mai. E non lo devi pensare. L'attore non vuole che pensi sta roba qui. Ti deve entrare sotto pelle. Tu devi avere la percezione, tu devi percepire l'affetto. Non devi avere tutta questa analisi che ti sto dando io che probabilmente ti rovina anche il sapore. Ecco perché ho empatizzato con Tony Stark. Perché è morto come essere umano in un regno di superpotenti. Questo è. E il wrestling è esattamente la stessa cosa. Non ci può essere un lottatore supertifato che arriva e distrugge e basta. A un certo punto deve affrontare delle difficoltà. A un certo punto tu affronterai, che ne so, una separazione dalla ragazza, perderai il lavoro. Le sto affrontando nell'ultimo mese. Periodo perfetto. Mi dispiace tanto, è una cazzo di rottura di coglioni. Però devono empatizzare con te. Cosa ti rende simile a me? Grande, grosso, forte, non importa. Soffri come soffro io. E anche io porto una maschera. Davvero? Qual è il tuo segreto? Non posso dirlo. Tra l'altro hai detto, grandi, grosse, forti? Vuoi sapere qual è il mio segreto? Sì. Che sono calvo. No, sono rasato. Non c'è senso. Mi sono umiliato. Mi sono umiliato. No vabbè, per questo che porto la maschera. Ma veramente? No. No. È un segreto. Se no sarebbe umiliante sta cosa. È molto umiliante. Ma abbiamo una domanda di rito? Perché è importante saperla. Non mi chiedere quanto è lungo il mio pungiglione perché non lo so. no. Bon account. Ne siamo veramente curiosi. Ne siamo stavolta. Ovvero, come nasce il tuo personaggio? Sotto questo punto di vista? Da dov'è che parte tutta questa? Io vorrei sapere un po' anche il vestito. Io vorrei sapere la tua storia. Sì, non la tematica. Infatti non mi riprevo. È un cazzo di viaggio. Va avanti e avanti. Allora, bisogna secondo me dividerla in due parti. Cioè, come parte Fabio il ragazzino e come poi arriva a costruirsi questo personaggio. Se vogliamo la storia, quella del motivo per cui ho indossato la maschera è semplice. Io ho iniziato a fare wrestling per puro caso. Andai a casa del mio miglior amico. Noi guardavamo di tutto, tranne che il wrestling. A un certo punto domenica pomeriggio, come tutte le domeniche, sempre a casa del mio miglior amico e stava giocando alla playstation al gioco del wrestling. Bellissimo. Bellissimo. Amore a prima vista. Dopodiché riusciamo a trovare i match. Dal vivo. Sì, riusciamo. Non era ancora su Italia 1. C'era su Tele Più, quelle cose lì. Quindi prendevamo le cassette e il primo match che io vidi fu Undertaker contro Kane, suo fratello. Desce dalla barra. A cui avreste il menu in cui Undertaker era appena tornato da un infortunio. Io vidi sti due giganti di due metri. Uno era al becchino e io da piccolo mi cagava d'osso. Tra l'altro avevo appena visto l'esorcista. Ho dormito con mia madre fino a 16 anni. Questo è umiliante. Vedere Undertaker così credibile. Cioè nel senso un ragazzino crede realmente che quell'uomo sia posseduto e che suo fratello sia stato bruciato perché da bambini questo ha piccato un incendio. Cioè tu pensa... Che storia. E adesso anche da adulto è una storia figa. Cioè nel senso è figa perché se no non guardi film horror per dire. Quindi va bene. Lunga storia corta. Iniziamo a trovare i video, le videocassette. Iniziamo a guardarlo divento ossessionato. Ovviamente la prima cosa che un ragazzino normale inizia a fare è pratica wrestling con gli amici. Però io ero molto disciplinato. Io ero a scuola, avevo la palestra a disposizione il venerdì in cui i ragazzini che non sapevano che cazzo fare gli davano la palestra per giocare a basket, a calcio eccetera e avevamo i materassoni. Io guardavo gli incontri in televisione. Tutti i miei amici già li allenavo, gli spiegavo come fare le mosse. Quindi le imparavamo sui materassoni e mi hanno cambiato un cazzo da allora. Faccio la stessa identica cosa. Prepariamo gli incontri, decidiamo cosa si fa. Vai a scuola con i bambini il venerdì da soli in una palestra. Adesso c'ho la mia palestra. Era umiliante. Però suona brutto detto così. Cioè come l'hai detto a te suona malissimo. Esatto. Era quello l'obiettivo. E quindi iniziamo a fare wrestling sui materassoni. Quindi con tutte le schede tecniche. che diceva ok tu hai forza 8, tu hai forza 7. Non erano mai contenti. Era proprio il tuo. Io ovviamente ero il più forte sempre. Chiaro. Vabbè. E organizzo il primo spettacolo. Non so quanti anni. Terza media, seconda media. 13. Piccolino. Sì. Vennero 200 persone. Amici familiari sui materassoni. Da lì un pomeriggio andando in giro per la mia zona a Imola con un amico trovo una locandina su un negozio di modellismo con scritto corsi di wrestling. Rey Mysterio sopra. Chiamo, mi informo, parto a settembre. Ovviamente non potevo immaginare che purtroppo la persona che ha aperto i corsi di wrestling che era un gigante di un metro. Sembrava Undertaker. Quindi io già innamorato. Il mio eroe. Voglio diventare così. In realtà era un truffatore. Lui non si era mai allenato per fare wrestling. Allora, negli anni 2000, quando lo guardavate anche voi, il wrestling era stra-over e quindi lui aprì ovviamente una palestra di wrestling dove ci vuole una precisione ragazzi per fare wrestling, buttarsi da una terza corda e caderti sulla trachea senza farti morire altro che... Possiamo farlo? Sì, sì, possiamo. Sulla sua trachea? Sì, sì. O anche... No, non la scuola. Cioè, è difficilissimo. E cosa è successo? Questa persona aprì una scuola con un nome falso di un'altra accademia di wrestling che esisteva in zona Milano, mi pare. Partimmo in 35 ragazzi. Già al primo allenamento uno spalla fuori, l'altro si fece male. Da lì siamo rimasti in pochissimi. Io non mi feci male perché avevo imparato a fare wrestling sui tatami e sui materassoni con i miei amici, quindi mi salvai. Ma dopo anni e anni e anni di questa pratica in cui questa persona sostanzialmente in stra-virgolette dico abusava di noi, cioè faceva in modo di farsi pagare, ma era nelle palestre abusivamente, duplicava le chiavi, ci allenava... Io non sapevo niente, ero piccolissimo. E aveva modo per... trovava modo per rubarci soldi, l'assicurazione. Tipo, un ragazzo si ruppe una caviglia. Lui, sì, sì, dammi referti che ti faccio avere. Niente. E quindi la gente iniziò a farsi male, si ebbero veramente tantissimi problemi. Addirittura questa persona organizzò degli spettacoli mettendo dei nomi di lottatori famosi nella locandina. Tipo ospiti che poi non ci sarebbero stati. Cioè, noleggiarono un palazzetto a Rimini da 5.000 posti, mi pare vendettero due biglietti e come ogni sano di mente fa, qualche giorno prima dello show si inventarono la morte dell'organizzatore, dando io ovviamente il nome Fabio, il mio. È morto l'organizzatore di Vrest, in Fabio ne parlano anche i giornali, in realtà non c'era stato nessun incidente, ne era morto nessuno, erano dei truffatori purtroppo. Quindi io mi feci male, mi ricordo probabilmente mi rupi anche l'osso sacro facendo delle cadute senza saperle fare, un bel momento, insomma. Un disastro però fu il mio modo di iniziare. Arrivai un giorno in cui partecipai a un seminario con un lottatore americano e mi resi conto di non sapere niente. Cioè facevo le prese dalla parte sbagliata, non sapevo cadere, non sapevo camminare sorrino. E ho detto, mio, per cinque anni che cazzo ho fatto? La cosa peggiore di tutte, questa è veramente la mia storia, come ha fatto questa persona a manipolarci, manipolarmi specialmente a me, perché io, ossessionato dal Vrest, era quello che volevo fare, che grazie a Dio faccio ancora, quindi io credevo a tutto quello che mi diceva, mi disse durante un allenamento che purtroppo aveva un tumore al cervello e sarebbe morto. Quindi li devastò, io mi ricordo da piccolino andai su internet e cercavo cure per il cancro al cervello. Cioè io non volevo perdere questa persona assolutamente. Poi mio padre mi diceva, fidati, non può avere una roba del genere, quindi immagina che liti con i genitori, no, un dramma assoluto. Fino a che poi mi svegliai, capii che era un truffatore e abbandonai nel momento di Massimo Picco, quando si inventarono la morte di Tizio, quando saltarono fuori, che le palestre erano abusive, quindi veniva la polizia e della gente, insomma delle scene allucinanti. Lasciai questa cosa qui e cosa feci? Noleggiai, trovai il mio vicino di casa, che aveva due garage attaccati, noleggiai i garage. Comprai dei tatami e iniziai ad allenarmi da solo per quel poco che sapevo fare. Mi spostai a Roma nei weekend per imparare qualcosina e quel qualcosina vuol dire andare da una persona che era stata due mesi in America. Cioè questo è il livello, cioè non allenarti con un professionista, uno che per due mesi è andato in America e magari l'ha mandato via a calci nel culo perché faceva schifo. Quello era il massimo a cui tu potevi aspirare. Quindi io andavo là, mi pagavo tutto, andavo lì a prendere delle gran botte perché quei ragazzi di Roma, a cui voglio molto bene ora chi è rimasto, però erano gente di strada, quindi gente magari senza padre, così. Quindi sono per sé senza padre di una persona di strada? No, era gente di strada e poi molti non avevano famiglia. Comunque bro, sì. Sì. Sei una persona di strada. Però diciamo che se ti manca un modello maschile che ti dà l'educazione, cresci per strada, dove impari la lingua dei pugni, diciamo che la prima volta che andai a Roma mi spaccai una mandibola perché uno mi dia direttamente un pugno in faccia. Primo, secondo del messo. Come saluto? Anche quando abbiamo conosciuto Yuri comunque era così. Ah, ok. Era così, davai pugni a casa. No, non volevo toccare la tua intimità. L'hai fatto. Non so cosa hai dentro. Poco. Ormai poco. No, però ti dico, siamo passati da male a un po' com'è. Un malino. A peggio. Un maletto. Sì, insomma. Però cosa è successo? Che stando a Roma iniziai ad andare per le prime volte in televisione. Mi ricordo andai da Magalli perché non so, si fecero delle trasmissioni così. Quindi iniziai un po' a farmi vedere. Feci il mio debutto nel 2007 sotto quell'allenatore non vero allenatore e io ero pronto per combattere per gli standard di allora. Adesso io non farei mai combattere un mio allievo a livello a cui ero io. Mai. Rischia solo di farsi male. E mi disse Fabio, hai la faccia da bimbo, la dobbiamo coprire. E iniziai a truccarmi tipo Sting, quel lottatore di wrestling. Tipo il Corbono, però in rosso eccetera. Negli anni, piano piano, piano piano, arrivò la maschera, la prima maschera in lattice fatta dal mio miglior amico che è anche il mio attuatore. Bravo però. Sembra molto bravo. È l'unico uomo che può mettermi le mani addosso senza problemi. Quanto mi ha toccato lui? Oltre bambini nelle scuole intendi. Però ti piacciono i bambini. Nelle scuole sì. A me le bambine. No, i bambini. Hai detto bambini. I bambini può essere unisex comunque. E quindi? La maschera? E quindi lui mi fece la mia prima maschera in lattice che è lo stesso modello che vedete ora. Cioè questo design è stato fatto da un maestro mascheraro messicano. Possiamo zoomare per fare un primo piano fortissimo? Poi zoomiamo. Basandosi su quel lavoro che fece il mio amico del tempo. Quando poi quella maschera iniziò a lovinarsi perché sudava era putrida praticamente. Contattai questo maestro mascheraro messicano collezionai quei pochi soldi che avevo mi feci fare la prima maschera e da ormai 10, 12, 15 anni lui fa tutti i costumi di Red Scorpion che ormai si sono evoluti e sono passati da poche centinaia di euro fino a un costume completo 2.500, 3.000 euro tra stivali la giacca non ce l'ho ma è tipo una giacca gigantesca cioè il wrestling è fatto per essere visibile che bello a me piace essere visibile perché la gente deve riconoscerti vuole quella roba lì il nome Red Scorpion se posso chiederti? Allora ero il più piccolo del mio corso però ero quello che almeno credevo ci sapeva fare di più quindi pensai io ho fatto una scuola d'arte non ho mai disegnato gli esseri umani ma mi è piaciuto disegnavo sempre animali e quindi volevo trovare un nome di un animale qual è un animale piccolo e molto letale anche abbastanza figo lo scorpione il rosso il mio colore preferito e unito ci sta proprio one to one basic e quindi nacque Red Scorpion mi ricordo che allora facevo un match ogni sei mesi adesso in sei mesi sono capace di girarti 17 paesi cioè sono cambiate le cose in quasi 20 anni per fortuna mi viene da dire però sì è stato veramente brutto l'inizio è frustrante eppure mi divertivo tantissimo domanda quando tu dici facevo un match ogni sei mesi cioè cosa significa fare un match di wrestling in giovane età quando non sei ancora non fai parte magari di una federazione adesso ci spiegherai come funziona cioè i match che facevi erano già come sono oggi quindi quello può essere il vincitore la coreografia tu sei il cattivo tu sei il mono allora per il vincitore lo sconfitto diciamo che nell'80% dei casi è un film teatro quindi si sa prima perché dobbiamo raccontare una storia e se televisiva è a lungo tempo per farvelo capire esempio abbiamo John Cena John Cena non è il campione vogliamo farlo diventare campione il campione è Mark Henry quello di colore Mark Henry è il cattivo John Cena si deve fare un culo così per riuscire a battere Mark Henry e magari la prima volta non ci riesce allora fanno vedere John Cena che si allena magari trova un lottatore veterano che gli spiega dei trucchi Rocky Balboa Rocky Balboa per battere Ivan Drago stessa cosa era così già a 17 anni al primo debutto esistevano già queste storie no 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 erano show tristissimi però c'era già una storia no no quelli erano show vengono chiamati show indipendenti in cui tu hai un match e la storia negli show indipendenti inizia e finisce nel tuo match o meglio che vada nello spettacolo cioè una storia può durare quanto lo spettacolo tu parti che ne so hai un torneo poi arrivi poi c'è quello che ti tradisce poi alla fine ti scontri con l'amico poi la fidanzata del tuo amico che è anche tua amica alla fine tradisce l'amico tradisce te insomma possono renderlo più articolato possibile per renderlo più consumabile insomma più empatizzante per il pubblico no lì era il match e me lo fecero fare con la persona con cui partì allora che era un altro ragazzino abbiamo fatto il match ve lo dico era una merda ma il match migliore della serata per farvi capire il livello quei lottatori lì che si sono esibiti quella sera lì il 99.9% avevano un fisico di merda voi sareste stati i lottatori più belli fisicati e grossi di quello spettacolo di allora e questo è umiliante umiliante e a tratti ogni tanto è ancora così però sì partì mi ricordo primo match di wrestling abbiamo fatto e messo tutto quello che volevamo io non ho camminato credo per due settimane perché non mi ero mai allenato su un ring prima di quel giorno lì sempre materassini i ring i tatami da giù ok i tatami può esserci un ring di 4 metri ma anche di 5 metri e mezzo per 5 e mezzo come quelli della WWE molto grandi quello era un ring americano se lo fece mandare l'organizzatore di allora che era uno con un po' di soldini e si comprò un ring dall'America però ripeto noi non avevamo idea di come fare sul ring e abbiamo ripetuto il match tipo 10 volte ma perché ci divertevamo a stare sul ring e tante botte abbiamo preso sul ring che è comunque legno con un tatami cioè non è non è un tappeto un pallet no no però con un tatami quindi non so se uno tu vai a fare judo ti sbatte per terra ti fai malissimo se non sai cadere se non è morbido il ring no è ammortizzato perché è ammortizzato perché se cade uno di 130 kg con uno che gli vola sopra dalle corde quindi il peso diventa allucinante si piegano le assi del ring di ferro e quindi se ammortizzano scaricano e va ma si dopano in tanti nel wrestling cioè discorso doping discorso doping io faccio sempre lo dico sempre a grandi linee per lo sport in generale magari il parere mio è sbaglio dove c'è l'oro dove ci sono i diamanti c'è anche il doping cosa vuol dire che se io sono tizio caio mi esibisco 300 giorni all'anno ho un contratto multimilionario viaggio la mattina arrivo a Tokyo faccio lo show a Tokyo prendo il volo il giorno dopo mi esibisco in Florida o due giorni la settimana per allenarmi in palestra e probabilmente nelle palestre degli hotel che fanno schifo sono sempre stanco non dormo non so se l'avete mai sperimentato ma il testosterone nella vita è fondamentale specialmente per un uomo non dormi mangi male sei stressato ti devi esibire in televisione hai dieci minuti di tempo non puoi sforare non puoi sbagliare live perché se sbagli ci sono altri dieci lottatori che sperano che tu sbagli e muori per prendere il tuo posto perché quanti match ci sono in uno show otto match sei match cinque match un massimo di dieci barra quindici lottatori e ce ne sono cento che aspettano nel backstage e migliaia fuori dal palazzetto che sperano di entrare tu per essere lì per tanto tempo vuol dire che sei un fenomeno anche se fai due cose sul ring vuol dire che le fai meglio di chiunque altro quindi immaginate lo stress il dormire poco poi gente che viaggia in macchina e poi a volte quei lottatori lì avevano anche due show a settimana al giorno più i pay per view e nei pay per view tu non combatti come negli house show cioè dove non ci sono le telecamere o negli eventi gratuiti che fanno vedere in televisione la gente paga e quindi tu li porti tutto quello che sai fare nessun lottatore combatte mai al 100% in salute li prendono che sono super uomini perché sono in grado di reggere il carico ma nessun lottatore anche voi mi dite un match qualsiasi se me lo ricordo vi so dire l'infortunio che aveva il lottatore in quel momento io ho combattuto sei mesi con un'infiammazione all'inguine che mi è partita in Giappone perché mi allenavo la mattina col wrestling il pomeriggio faccio powerlifting quindi il pomeriggio powerlifting e nel weekend spettacoli sei mesi di infiammazione dove non ho potuto fare palestra perché se no rischiavo di fermarmi per altri sei e subire un intervento eppure tu guardi i miei match e dici cazzo che figata che bei voli che fa quasi nessuno ad alti livelli il corpo non ce la fa quasi nessuno ad alti livelli combatte che sta bene quindi perché arrivano gli anabolizzanti non solo non solo supporto per essere grandi e grossi perché se tu sei asciutto è muscoloso in telecamera allora piace al pubblico allora piace all'organizzatore molte volte anche per sopperire alla mancanza di tempo al calo di sonno allo stress voi arrivate al palazzetto la mattina e finite la sera tardi che cos'è che ha aperto a ogni ora del giorno specialmente in America la steakhouse lo strip club anche lo fast food sì il mcdonald il mcdonald certo quindi mcdonald d'alcol e puttane ed è questa la felicità però poi ovvio ci sono lottatori che sono super organizzati si portano le proteine in polvere c'è chi come me si cucina tipo un chilo di carne macinata la tua dieta in viaggio io sono recentemente diventato carnivoro dieta carnivoro perché prima non lo eri prima mangiavo sì prima mangiavo prima mangiavo carne però a me piace un sacco la pasta e poi per mettere su peso ti dicono devi mangiare riso carboidrati a volontà in Giappone dove ovviamente ti vogliono bello bello pesante e forte quindi ti vogliono performanti in palestra perché lì sei come una mezza divinità in Giappone lì sei visto come i supereroi cioè immortale devi essere immortale mi allenavo tantissimo mangiavo riso colazione pranzo e cena colazione riso e uova pranzo riso e pollo cena riso e manzo ma riso delle quantità allucinanti e i carboidrati non so se lo sapete mi immagino di sì sono altamente infiammatori quindi si legano proprio bene bene alle ossa alle proteine e tutto e poi tu ci lavori sopra e ti alleni tante ore al giorno ti infiammi l'infiammazione diventa cronica e te io facevo uno starnuto e mi schioccava tutto qui sotto stavo malissimo anche carne rossa è molto infiammatoria oh no e vai diglielo diglielo che tipologia di ferro hai perché la carne rossa è infiammatoria e te lo chiedo che tipologia di ferro è contenuta all'interno della carne rossa aspetta aspetta ci teniamo a dirvi che lui fa il finto vegano no 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 guarda perdonami guarda io sto parlando e dialogando la carne rossa è assolutamente infiammatoria come può esserla qualsiasi altra cosa quando la mischi ai carboidrati se tu mangi riso e carne se tu mangi non lo so carne e una mela o qualsiasi altra cosa può essere altamente infiammatoria cioè qualsiasi cosa diventi infiammatoria anche se mangi un hamburger che c'ha la fetta di carne non è roba che ti fa bene che c'è maionese c'è tutta quella roba lì però ti dico per esperienza personale e non ci credevo perché per noi mangiare carne vuol dire ti viene il cancro e muori per l'Italia è così no 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 in Italia è così ah carne rossa massimo due volte a settimana no ok io ero disperato non sapevo più che cazzo fare fisioterapista due volte a settimana laser non allenare più le gambe ed ero abituato a fare squat stacchi da terra pesanti e più devo esibirmi cioè la gente la devo tirare su non pensate che la gente salti e voi no 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 la gente va tirata su allora ho sentito questa intervista di questo dottore si chiama Sean Baker che era era un chirurgo che appunto ti metteva le protesi supera anche lui un powerlifter si allenava però nell'età ha iniziato a sviluppare per la dieta americana o per la qualità del cibo di merda che hanno là infiammazioni dappertutto e quindi ha detto inizia ad eliminare roba ha iniziato ad eliminare roba ed è rimasto con carne rossa e uova e ha visto che ha iniziato a perdere peso ha iniziato a mettere su muscoli gli sono passati tutti i dolori ha iniziato a suggerirla agli amici soprattutto quelli che andavano dovevi perché magari dovevano avere la protesi al ginocchio all'anca quei cazzi lì e vedeva che dopo settimane questa gente non aveva più bisogno di essere operata allora cosa ha fatto ha iniziato a proporre questa cosa all'ospedale in America ovviamente è come industria all'ospedale la gente paga si deve operare quindi ovviamente l'hanno estromesso dall'ospedale lui si è concentrato ha studiato questa dieta carnivora ha visto un pochettino anche come l'uomo si è evoluto come si è sviluppato eccetera io comunque tutte minchiate perché poi ti dicono mangia vegano che vivi tutta la vita io sono stato vegano tre mesi penso sia stato da ragazzino proprio perché vedevo quei documentari dove mangia vegano che sei forte credo di aver perso massa muscolare le scorreggie più puzzolenti della mia vita quando sono tornato a esibirmi i miei amici mi guardano ma sei stato male le spalle erano scese ogni cosa poi ovvio si è anabolizzanti è un'altra roba ho fatto questa prova qui con la dieta carnivora quindi sostanzialmente uova la mattina o quando capita è fiorentina o carne rossa tra l'altro mangi una barra due volte al giorno non hai il senso di pesantezza mangi come un leone quando hai fame mangi ti fermi quando ti viene fame mangi di nuovo quindi non hai tutto sto binge eating dove mangi di continuo non senti mai la pesantezza vai in bagno pochissimo tu mangi cinque volte al giorno vai a cagare sei mangi carne buono se ci vai una volta io dici ma cazzo sei costipato no perché non ti senti gonfio tre settimane ho ricominciato a fare scatti e a fare squat e primo stacco da terra 220 kg non toccavo la barra da mesi da mesi ho detto ok io non ho idea non sono un dottore non so se sta roba funziona non ne ho idea però cazzo ero rovinato ha funzionato potete parlare con il mio fisioterapista tra l'altro uno molto bravo era fisioterapista della Virtus quindi abituato a trattare atleti e tutto il resto l'obiettivo è quello di tenere le infiammazioni il più basso possibile se voi vedete i grandi atleti o comunque quelli che hanno dei fisici impressionanti dicono carboidrati pochini ora io mi metto nella testa di un indigeno e questo qui va in giro e l'unica cosa che trova è che non c'è il cocomero non c'è il melone non ci sono le patate non ci sono i pomodori hanno le scimmie hanno i bisonti hanno i leoni cacciano e mangiano e ogni tanto trovano e raccolgono ogni tanto trovano e raccolgono qualcosa non dicono adesso salgo sull'albero prendo una banana ne mangio metà perché se no mi sale il picco insulinico e tutti sti cazzi com'è possibile se tu prendi un qualsiasi animale anche allo zoo la prima cosa che ti dicono è non date da mangiare agli animali perché se no si ammalano gli animali che si ammalano come gli uomini sono gli animali domestici adesso i gatti i cani sono obesi gli viene il cancro hanno ogni genere di malattia prendi gli animali allo zoo gli danno quello che devono mangiare non fanno un cazzo non è che gli dicono ah adesso per il leone gli diamo otto ore di tapirula un leone che sta dentro lo zoo a parte che ripeto tre quarti degli animali sono drogati no però aspetta ti dico guardali fisicamente magari non hanno l'imposing è la struttura del leone selvatico che deve cacciare ma hanno anche meno infortuni ma se tu capita che li vedi ogni tanto li vedi che scattano e fanno le loro robe cioè non è normale che devi mangiare sempre sotto certe quantità ti devi muovere una certa quantità di tempo a settimana perché se no il corpo si massacra devi necessariamente sollevare del peso se non per scopi puramente edonistici ma perché ti fa bene per le articolazioni io non vedo indigeni o primitivi che si mettono a fare squat loro corrono si devono cacciare portano l'animale in spalla e bene o male sono tutti asciutti saltano da dio stanno abbastanza bene e anche la qualità dei denti non è mai rovinatissima non è come noi che hai tutti questi cazzi questi problemi le carie il tartaro io ho smesso di andare dal dentista a farmi fare la pulizia dei denti prima ci dovevo andare di continuo sempre sempre rovinando perché mangi uova il manzo e la carne tre volte al giorno dipende mangio uova e manzo dipende e sale sale un pochettino dipende almeno seguo il protocollo che ha consigliato il dottore che una volta la gente beveva dai ruscelli e quindi l'acqua era già con dei nutrienti diversi rispetto a quella di ora adesso invece è tutto filtrato è tutto pulito io ho fatto una prova non ci credevo ho detto oh peggio di così non può andare poi sono un lottatore di wrestling metti in conto che già fai una roba che non è sana rischi il collo provo un mese farò gli esami del sangue male che vada smetto questa cosa con te ha funzionato da quant'è che sei carnivoro? da un paio di mesi l'unica cosa che ho rintrodotto un pochettino perché non mi è venuta voglia di nutella o di biscotti o di altre cose di cui normalmente ho voglia se mangio quantità ristrette di carboidrati è un po' di cocomero un po' di cocomero cioè nel senso cocomero e melone mangi proprio anche zero grassi? no no la carne va mangiata grassa perché la funzionalità degli ormoni nel corpo è strettamente legata ai grassi quindi tu non devi mangiare almeno quello che dice lui o loro perché poi sono è una community abbastanza importante li vedi sono tutti giovanissimi quindi tipo quanti grammi di proteine assumi giornalmente? no no lo so vado a sazietà ok quindi quanto pesi? io peso 93 kg quindi non assumerei mai tipo 90 grammi di proteine assumerai almeno il doppio? io mangio mangio almeno almeno adesso un chilo di carne rossa al giorno ok un chilo di carne rossa al giorno circa più 6 uova intere la mattina sto abbastanza bene vado in bagno una volta sola sono tipo 300 grammi di proteine al giorno? più o meno? che il corpo non assumo vabbè ragazzi ripeto io l'unica cosa che ho riscontrato no vabbè magari nel suo la questione è che nel suo si è trovato bene la questione è che ho visto un incremento di peso corporeo e anche di prestazioni in palestra e vado e mi alleno a stomaco vuoto cioè io mangio chiaro alle 2 di pomeriggio mi viene fame alle 3 e non è quella fame brutta cioè il corpo che ti fa sentire quando hai voglia dai una mangiatina ma la cosa bella è il livello di dolore fisico che nel mio caso era disarmante cioè io ho una spalla che è uscita e i polsi per le cadute e le caviglie ogni volta per me la fase di riscaldamento in palestra era come la passione di Cristo cioè darmi delle frustrate adesso vado in palestra e non ho problemi cioè è stranissimo per me non avere male nella vita di tutti i giorni non so come dirlo quindi magari non la seguirò per sempre perché tipo l'ha provata anche Joe Rogan la dieta infatti mi sono informato su tutti i personaggi famosi che la fanno Brock Lesnar lo conoscete? campione dell'UFC il lottatore più forte mai esistito nella storia non avete presente lei presente? lui non ne parla perché non gli frega un cazzo non fa podcast non fa nulla gli ha capitato di farne uno solo gli ha detto te cosa mangi? io mangio carne e carne io caccio e mangio e basta quindi è una chetogenica si mangio carne fa sto da dio e lui quando era in WWE e anche in UFC ha avuto problemi di verticolite pesante si è dovuto operare ha dovuto fare di tutto ha eliminato praticamente tutto e si è tenuto la carne e ha 50 anni ma è un mostro impressionante quindi neanche fibre? non assumi verdure? no adesso ti ripeto un po' di cocomero poi sono stato in Inghilterra dove la qualità del cibo non è il massimo però avevo una steakhouse vicino all'hotel e io andavo lì e chiedevo due fiorentine e buona se arrivavo la sera tardi andavo dal kebab bar mi facevo fare un misto di pollo e pecora che cazzo era quella lì un animale sì un animale della carne l'importante è che non mangi solo del pollo perché non ha grasso e quindi diciamo mangio carne magra così dimagrisco no devi mangiare della carne e possibilmente anche dei tagli grassi cioè nel senso la bella bistecca di manzo che c'è anche il grasso e devi mangiare anche quello ripeto non so se è giusto non lo consiglio a nessuno non lo fate io l'ho fatto perché ho provato diete è da una vita che provo diete prendo peso perdo peso ed è una gran rottura di palle a sto giro invece mi sento bene al momento va bene non ho gli obblighi di orario esattamente come il wrestling non replicatelo a casa se non in palestra anzi venite nella palestra di Red Scorpion perché ne ha due molto fighe adesso infatti ne parliamo io ho un sacco di domande da fare sul wrestling esempio il doping stavamo parlando la gente si dopa perché nel senso atletica tennis tutti gli sport tradizionali passami il termine la gente si dopa per avere prestazioni migliori per andare sopra gli altri certo però se nel wrestling però se nel wrestling se nel wrestling è già cioè non è che io mi do per sovrastarti chiarissimo chiarissimo però per cosa per essere tipo più prestante per fare delle acrobazie migliori innanzitutto per reggere il carico dell'incontro soprattutto perché non so se avete ovviamente avete presente il crossfit si è in movimento si solleva eccetera lì devi fare degli high spot vengono chiamati high spot che comprendono cardio cardio acrobazie sollevamenti è la parte più bella di tutti già quando sei in condizione di normalità cardiovascolare cioè di normalità che non prendi urti ti manca il fiato quindi emu mamma ti manca il fiato immagina di dover fare un'azione altamente veloce che comprende dei sollevamenti in cui vieni schiacciato sul tappeto dove ti si comprime la cassa toracica e butti fuori quindi quello che serve è ossigeno poi servono muscoli perché il wrestling è uno sport estetico almeno al 90% è ovvio che c'è John Cena ma poi c'è anche Ray Mysterio io per l'amor di Dio posso essere nello standard dei lottatori italiani sicuramente ma anche in Europa uno di quelli che può dire la sua fisicamente anzi in Italia senza dubbio sia con la pesistica che con il fisico in Europa anche però se inizi ad andare con gli americani che sono un metro e novanta centotrenta chili è ovvio che il mio must viene chiamata la gimmick il personaggio il costume ognuno cerca di usare il meglio che può però sì alla fine per tutto sia anche per egocentrismo personale più grosso sei più il tuo look è affascinato immaginate John Cena di 90 kg immaginate Randy Orton senza muscoli di certo non sarà vietato mi immagino il doping perché non è che se ti dopi allora vinco la WWE no 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 allora c'è stato anche negli anni un grande scandalo dove appunto la WWE è stata chiamata in causa perché i lottatori c'erano state tante morti e ovviamente la gente attribuiva le morti al doping come succede sempre non era legata al doping era perché erano lottatori di wrestling che avevano delle vite da rockstar in cui sicuramente c'erano soldi droga alcol e doping e qualsiasi altro tipo di altra cosa quindi ha iniziato a fare dei controlli e la WWE è stata messa sotto torchio e hanno iniziato ad applicare una policy di non utilizzo di steroidi poi io ripeto non lo so perché molti non li conosco i lottatori che ho conosciuto che hanno un gran fisico hanno sempre ammesso quanto meno di fare uso di TRT per quale ragione per due ragioni perché in America bene o male te la prescrivono e anche perché se si dopavano da giovani quando poi fanno il controllo quando hanno 35, 36, 37 anni il loro testosterone ovviamente è sotto le scarpe e quindi gli prescrivono la TRT quindi perfetto ottimo immaginate anche non so se avete mai subito un intervento no benissimo conoscete qualcuno che ha subito un intervento ok se voi prendete certe tipologie di anabolizzanti per quello che anche ho sentito o nelle interviste ti ho visto e vi operate e poi prendete anabolizzanti voi recuperate in un terzo barra metà del tempo una persona una persona normale normale io intendo il padre lo zio chiunque si rompe una caviglia gli fanno l'intervento avrà male per il resto della sua vita e sostanzialmente lavora da seduto non è che fa delle gran cose avrà problemi per sempre non ha fatto la giusta riabilitazione poi magari l'età e poi magari il tessuto non si ripristina i lottatori di wrestling per l'amor di Dio hanno sempre male ma a volte te vedi Remistirio io credo sia il lottatore che ha subito più interventi nella storia sai anche quanti? ma più di 20 più di 20 solo scusami solo nella parte bassa del corpo tutti dovuti al wrestling? oh certo c'è l'infortunio traumatico tipo quello che è successo a me un lottatore ha deciso di abusare di me mi ha spaccato una spalla non col pene ma schiacciandomi per terra oppure c'è l'infortunio da logorio di cui non ti accorgi prendi i dolorifici vai avanti e poi trovi le cartilaggini fottute e poi ti devi operare domanda ah scusami domanda hai detto un lottatore ha deciso di abusare di me eccetera capita che in spettacolo magari ti sta proprio sul cazzo l'altra persona o magari ti è capitato a te e quindi alzi un po' la mano forzi un po' la mano e gli fai male allora funziona funziona così queste sono storie bellissime tenete conto che in un ambiente adesso io prendo magari la WWE perché la conoscono un pochettino tutti chi conoscete in WWE adesso di questo periodo Logan Paul ottimo no no Logan Paul è perfetto è l'esempio perfetto questo qui è arrivato guadagna milioni gli hanno dato un contratto di milioni perché già di base guadagna milioni e ci sono lottatori che sono lì da vent'anni che a fatica riescono a passare dal primo al secondo match arriva Logan Paul e gli danno Rey Mysterio Roman Reigns cinture match a Dubai match negli Emirati Arabi cioè quindi il lottatore che per caso gli capita innanzitutto tu prendi del lit di base quindi se uno pensa io sono meglio di te e chiamano te in televisione c'è quella parte di Diego che dice porca puttana perché lui è lì e io no vai con questo tipo di attitudine sul ring magari vi scontrate capita perché capita sempre che il lottatore su cento colpi che ti dà uno gli scappa io lo ridai indietro un po' più forte e da lì si va in un escalation che è meglio non vedere adesso in WWE se uno fa una roba del genere viene tranquillamente licenziato perché la WWE ha il potere la WWE ha i soldi e quindi vuole che tutti si comportino proprio perché negli anni le morte per i lottatori diversi sono sempre state tanti i lottatori che hanno distrutto camere d'albergo rockstar che fanno parlare di loro per cose poco divertenti adesso hanno pianato tutto voi fate quello che diciamo noi ognuno ha il suo ruolo perché se lo merita eccetera però può succedere a me non è successo tante volte quelle volte che è successo paradossalmente con italiani e di livello anche abbastanza basso perché con i grandi professionisti no anzi il vero professionista è quello che ti aiuta lavora con le tue limitazioni sapendo che lui è più esperto di te e ti fa fare una gran bella figura io sai che non mi capacito di come si riesca a improvvisare così tanto anche in WWE in cui ti stanno guardando milioni di persone cioè probabilmente salgo sulla terza corda e ti salto addosso allora ci sono mille modi di saltarti addosso per fare una capriola allora innanzitutto ognuno ha un suo moveset ognuno ha il suo set di mosse se tu sei un lottatore di vressi non è che vai sul ring e bo tu studi il tuo avversario come si muove che pause prende tu corri in un modo tu corri in un altro modo te hai una pausa di un secondo lui no cioè se sei un vero professionista cioè essere un professionista di wrestling è estremamente difficile per farlo male è la cosa che puoi fare peggio in assoluto come la palestra vuoi fare la palestra fatta male qualsiasi cosa fatta male tutti quanti sono bravissimi a farle male ma se vuoi fare anche una cosa che sembra semplice ma si vanno e sollevano persone no vuoi fare anche una cosa semplice ma vuoi farla bene devi avere una conoscenza anche del comportamento umano come la persona nell'arco del match potrebbe avere un calo di ossigeno e come questo potrebbe inficiare sulle sue performance quali mosse puoi decidere di prendere e di non prendere in un determinato momento perché possono metterti a rischio io ti dico che ti faccio una certa mossa la proviamo ora sono sano e forte per fartela ma dopo 20 minuti di match quando c'è il sudore negli occhi quando non vedi quando sei stanco quando hai il fiatone se cado sulla testa ammo finito morti live in un incontro ci sono mai state? allora purtroppo sì non tante per fortuna c'è stata una morte famosissima che era il fratello di Bret Hart si chiama Owen Hart che però è morto perché gli hanno fatto fare una scena in cui si calava dalla cima del palazzetto con una con una corda tipo volando sul ring la corda si è staccata e lui è caduto è una delle morti più tragiche del wrestling e ne fa parlare sempre un'altra cosa un'altra volta purtroppo è successa a Ray Mysterio gli hanno fatto anche un processo ma hanno capito che non era colpa sua il lottatore è in Ray Mysterio gli ha fatto la presa per mandarlo in 619 quindi la sissora alle gambe gli ha fatto lo sgambetto il lottatore è caduto di collo sulle corde ed è morto sul collo e nessuno se n'è accorto quindi Ray Mysterio ha eseguito la sua mossa il lottatore è rimasto lì e hanno visto che non si muoveva perché le corde comunque immaginate se un lottatore di 200 kg corre alle corde le corde non si spezzano immaginate le corde del ring che reggono anche delle persone in piedi quanto possono essere dure cioè il ring se lo conosci ti salva la vita se non lo conosci ti fa malissimo e quindi Ray Mysterio ha rischiato la colpa di aver ammazzato gli hanno fatto un processo ma poi hanno visto che il lottatore si è fatto male da solo praticamente però scusami se succede una cosa del genere tu domani vai a fare un incontro non succede ovviamente vai a fare un incontro tutto correttamente però la persona cade male durante una tua mossa e gli succede qualcosa è colpa tua? allora se io se io in maniera volontaria e si può vedere perché si può vedere perché comunque come non so io e te stiamo facendo teatro io ti devo strozzare nella scena a un certo punto trovano questa persona morta grazie l'ho strozzato e si vede che l'ho strozzato veramente c'è una scena in cui tu sei legato e non ti puoi muovere oppure devi usare una pistola che si presuppone e si scarica la pistola va come è successo da qualche parte in qualche film non so dove ma l'ho sentito Bruce Lee quello è un problema a volte gli incidenti possono succedere a me è successo quando è stato due qualche settimana fa ero a combattere in Francia mi danno questo lottatore che era un ragazzino non era troppo esperto allora quando uno ti tira un calcio in faccia non nel wrestling in generale ti parte un po' il collo da una parte cerchi di proteggerti il ragazzino mi è corso incontro noi i colpi li tiriamo cioè non è che non li tiriamo quindi io gli ho tirato il calcio ho tenuto la gamba tesa e questo ha sbattuto la faccia contro il mio stivale trauma cranico ed è caduto lì e il match è finito se li fosse morto? ah lì non è colpa non è colpa non è colpa tua a meno che non vedono cioè che io proprio gli calpesto la testa cioè quello però se io alzo un piede e sto ragazzo come se tu ti schianti con la testa contro un muro è un problema mi ricordo un'altra volta qui ero più piccolo io tiro sempre i calci volanti il doppio calcio volante viene chiamato drop kick ed è una delle mie trademark cioè una delle mosse che faccio sempre e l'ho tirato io di solito lo tiro sempre al mento o al tetto dipende il ragazzo non si è protetto e non ha tenuto la posizione giusta gli è arrivato un doppio calcio in gola è caduto è andato diretto in ospedale e lì è rimasto qualche giorno perché non respirava più e può succedere però ovvio che sono quei casi che non devono cioè la cosa bella è che se tu ci pensi io faccio wrestling dal 2006 e probabilmente anche prima e grossi infortuni per fortuna io non ne ho mai avuti e riesco sempre ad esibirmi nonostante gli infortuni da come posso dire da logorio quelli che hanno tutti cioè sì mi sono mi è uscito l'omicro caveare mi è uscito un osso ma perché uno ha deciso volutamente di farmi male certo e lui lì era un lottatore che al tempo era famoso per abusare dei giovani ragazzini molto dopato molto cattivo e mi ricordo a me ruppe la spalla l'altro ragazzo gli ruppe il naso e poi a me diede un calcio in testa quindi un trauma c'era il video anche l'hanno rimosso perché io sempre nelle interviste lo menzionavo quindi la federazione di allora visto che visto che dicevo anche che questo lottatore si era comportato come un imbecille perché gli organizzatori non avevano non erano veri organizzatori di wrestling non avevano le palle di impugnare quello che allora per loro era un talento troppo grande quando io organizzo un evento di wrestling si fa quello che dico io se tu fai male a qualcuno tu hai un problema se tu volutamente fai male a qualcuno dopo prendi il resto cioè non esiste e quando chiamiamo i grossi nomi e li abbiamo avuti si comportano sempre tutti molto bene quando invece arrivano i grossi nomi e a gestire gli eventi sono dei ragazzini diventa un problema soprattutto nei tempi della vecchia scuola dove bisognava far purgare i ragazzini e fargli capire che il wrestling non era una passeggiata io sono passato proprio da da quell'ambiente lì dove il wrestling in Italia era niente ma c'erano i grandi veterani europei che ti legnavano e la gente si ritirava senti a livello scusami soldi dove sono i soldi nel wrestling e poi ti vorrei anche chiedere secondo me i soldi nel wrestling sono dove sono in qualsiasi cosa mi viene da dire io dico sempre ai miei allievi se io non smettessi di fare wrestling e decidessi di vendere pomodori io venderei tantissimi pomodori non è quello che vendo ma è come lo vendo quindi io posso senza che nessuno se la prenda male anche se lo fate sono cazzi vostri la maggior parte dei lottatori in Italia e in Europa 99.x% non vive di wrestling non vivrei di wrestling nemmeno io se lo facessi nella maniera tradizionale perché anche se ti pagassero mettiamo un esempio migliaia e migliaia di euro per match quanti match devi fare all'anno per poter arrivare a una buona somma di denaro che ti permetta di guidare una bella macchina mangiare bene integrare vestirti in un certo modo comprarti dei bei orologi e tutte quelle robe no cioè non è quello quindi quello che ho iniziato a fare io senza parlare di cifre e altre cose vedendo che il wrestling in Italia era come un campo dopo che ci butti il sale non cresce niente non c'è una cultura di wrestling in Italia non ci sono tanti show di wrestling in Italia che giustificano un guadagno che cosa feci io iniziai aprendo la mia accademia di wrestling come vi ho detto ritornando alla storia sono partito dal mio garage e quindi le persone che erano rimaste orfane di quelli allenatori lì hanno iniziato a contattarmi quindi siamo partiti in due e siamo arrivati a tantissimi allievi nel mio garage fino a che poi ho dovuto prendere una vera e propria palestra e poi un'altra palestra e poi una palestra e poi comprare il ring e poi allora organizzare spettacoli ed è stato tutto un escalation di roba che è partita però da quel garage lì io ho iniziato a guadagnare i primi soldini non tanti perché il presidente di allora che fondò la società e disse dobbiamo fare una società sportiva mi pagava pochissimo mi pagava pochissimo mi ricordo prendevo 120 euro al mese per allenare due volte a settimana a wrestling quindi la prima cosa che feci fu questo è quello che voglio fare nella vita se non ci fossi io qui nessuno farebbe wrestling perché comunque erano passati già diversi anni avevo il mio piccolo nome nella terra di nessuno quindi facile il pesce grosso nello stagnetto di merda però potevo dire la mia faccio se io me ne vado qui la scuola chiude quindi io voglio tutti i guadagni della scuola basta io voglio tutti i guadagni della scuola una rapina no sì esatto era una rapina perché i ragazzi si allenano e si vogliono allenare con me perché magari ho fatto questo quello e quell'altro io pago tutte le spese io pago le spese del garage dove teniamo il ring io pago le spese delle assicurazioni pago tutto ma il guadagno lo voglio io perché io ci voglio vivere nel frattempo lavoravo in ceramica perché ho fatto una scuola d'arte e ad indirizzo ceramico e avevo un bellissimo lavoro come tecnico di lavoratorio il massimo peso che tiravo su era una bustina da dieci grammi di polverina per fare la ceramica figa macchina aziendale buoni pasto ogni genere di roba finì in tv tra virgolette da solista nel senso con un match la prima volta a Tussi che vale in una puntata su Halloween che anno? mi ricordo 2014 non lo so però c'è su Instagram lo trovi e facendo un match appunto su canale 5 Italia 1 non mi ricordo e allora la gente dice cazzo c'è il wrestling in Italia il red scorpion c'è e quindi iniziò ad arrivare della gente in accademia finalmente avevano visto che c'era un pochettino di wrestling lasciai il lavoro non andò subito bene però mi mantenevo con i pochi soldi che guadagnavo con l'accademia che per fortuna iniziavano a essere sempre di più e poi capì una roba importantissima come ti vendi? prima di tutto quindi costumi fisico eccetera e il merchandising il merchandising la gente vuole prendere un pezzetto di te se tu gli piaci la gente vuole tornare a casa con la tua maglietta e quindi in Italia mi chiamano the master of merchandise perché ho di tutto sono l'unico in Italia che ha i giocattoli sono l'unico in Italia che ha le maschere ho le magliette ho i ciondoli attimo momento spot per le magliette umilianti in questo momento però una me la dovresti lasciare ma l'avrai ovvio ho mettuto uno scorpioncino quindi il merchandise è fondamentale non potete immaginare quanto io rompo i coglioni nei seminari quando mi chiamano per fare dei seminari dicono ragazzi le mosse le sanno fare tutti c'è gente che le fa al mare le mosse dai Ale fai una mossa per favore adesso la fate l'abbiamo detto adesso la facciamo tu avevamo detto che la facevi tu però falla da solo so come fate voi fate fare la mossa mi denunciate poi mi prendete siamo proprio noi è più lui che farebbero questa però non è una cosa umiliante è ufficiale possiamo dirlo sono uscite le magliette umiliante sono fortemente umiliato è ufficiale ragazzi potete acquistarle da adesso sul nostro sito vi basterà cliccare il link sotto a questo video e umiliarvi e umiliarvi assieme a noi umiliante maglietta dietro c'è anche scritto il significato e non l'hai detto non l'hai ricordate ragazzi cosa dell'umiliante golden ticket 100 pezzi ma solo uno di voi avrà la possibilità di passare un'intera giornata di registrazioni col cast di mondo cash 4 ospiti segreti ufficiali e umilianti e venire a far serata con noi come sempre come sempre questo podcast è umiliante quindi ragazzi umiliati anche tu 100 100 magliette disponibili 100 magliette disponibili link qui sotto uno di voi vincerà oltre che prendere la maglietta l'umiliante golden ticket stay umiliated nella vostra maniera ha capito che di noi ha capito come si fa comunque ripeto merchandising 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 quindi poi dopo fai il sito internet dai la possibilità alla gente di comprare su internet ti fai una partita IVA prendi le cose seriamente l'altra cosa che a me ha aiutato tantissimo in Italia non c'è un cazzo di niente gli spettacoli sono erano pochi adesso ce ne sono un po' di più devi provare a diventare un personaggio pubblico quindi ho iniziato a allora quelle poche apparizioni che facevo a spingerle il più possibile e a conoscere persone un processo lunghissimo conosci persone che conosce persone e quindi in televisione per dire i programmi ne ho fatti tantissimi li ho messi tutti sul sito come memoria e sulla 7 e su Italia 1 e sulla Rai e l'apparizione dove la Scorpio combatte per un pacchetto di cocaina nell'ispettore coliandro e i soliti ignoti e Tussique Valles due volte piuttosto che adesso qual è stato l'ultimo uno che deve ancora uscire Cash or Trash quello dove fanno le aste insomma non ho problemi a mischiarmi in questo genere di video musicali con dei cantanti video con gli youtuber cioè partire da lì e far capire che il lottatore di wrestling il vero lottatore di wrestling è un intrattenitore lo può fare col fisico lo può fare con le parole lo può fare in qualsiasi modo i lottatori di wrestling non me ne vogliate male non sanno parlare a microfono non sanno parlare non hanno proprietà di linguaggio hanno un vocabolario estremamente ristretto in particolare vuoi dire qualcosa a qualcuno? no dai tu sai tu sai di chi sto parlando chiunque tu sia questa è una cosa magari no però la roba che mi è sempre stata detta è che io ho sempre due cose ho sempre ribattuto in un altro modo io voglio andare in America io voglio andare in America va bene va bene voglio andare in America per me l'Italia è stata come l'America io in Italia ho affrontato i migliori lottatori americani in Italia sono riuscito ad andare in televisione il mio pubblico è partito dall'Italia cioè proprio perché mi sono costruito un nome in Italia che sono riuscito ad andare fuori e tutti quanti dicono eh ma il wrestling in Italia non è rispettato no non è che il wrestling in Italia non è rispettato è che non ci sono lottatori di wrestling irrispettabili io sono convinto che nel momento in cui entri in una stanza la persona io non so che cazzo fai va bene indossi la calzamaglia ma sei una persona seria e magari è meglio anche non farti girare i coglioni e sicuramente almeno da come parli il tuo lavoro lo sai fare poi vedi uno dei messi e dici ok il suo lavoro lo sai fare quindi è il fatto che la persona deve essere rispettabile te puoi essere anche un bodybuilder ma se ti vedo con la panza o che non sai fare del posing non è che il bodybuilding in Italia non è rispettabile è che ci sono volute persone che sono fatte un culo così e andare all'Olimpia anche arrivando non ai primi posti ma ci siamo anche noi ci vorrà un po' di più ma ci siamo anche noi e salutiamo Andrea grande Andrea Presti detto questo io volevo chiederti io non so quali domande avrei da fare però abbiamo poco tempo un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo un minuto ok ci sta questa è la dieta vegana no è umiliante però lo dico per una questione etica io sono d'accordissimo ma non è etico ma non riapriamolo perché sennò abbiamo già sforato l'ora sennò arriviamo a due ore però effettivamente è un fisico migliore del mio quindi ma le prestazioni sono aumentate ma non ne voglio parlare ne parliamo un po' di più magari provo anche quella va bene quindi a proprio gradino ad oggi le tue entrate in ordine non quanto se non vuoi dirlo ma spettacoli merchandising sponsor non lo so esatto un'altra cosa quindi in ordine di grandezza le entrate migliori sì ad oggi le tue fonti di entrata più grande alla più piccola merchandising sponsor anche perché vi dico questa verità cioè nel senso questa verità molte volte le federazioni quando ti chiamano vogliono il nome ma non è che possono pagare il cachet quindi io quello che dico è non è che possono pagare il cachet intero certo ma magari ho un weekend che è libero non è buccato eccetera dico va bene non è un problema mi metti sul poster innanzitutto in bello e in grande perché ti faccio un favore venendo lì voglio il match prima della pausa perché prima della pausa vanno a comprare bravo così io vendo a metà show e a fine show voglio andare over cioè voglio che il pubblico abbia una bella memoria di me eccetera eccetera non è i soldi ripeto non è i soldi a meno che non firmi un contratto non è i soldi che ti danno negli spettacoli lo show di wrestling è come una piazza è come quando c'è un evento grandissimo e ci sono le bancarelle fuori è come quando c'è che ne so un expo ognuno presenta la sua roba chi la presenta meglio è quello che vende di più ma ti serve l'expo ti serve il raduno di persone quindi ah io in quello show lì non ci vado perché non mi danno i miei x e x euro va bene tu stai a casa se quel posto lì grazie alla mia presenza o grazie alla presenza di altri lottatori drew people cioè porta persone e io posso vendermi non ho bisogno che ovviamente ho il mio cachet certo però è più probabile che te lo diano quando fai spettacoli all'estero piuttosto che in Italia soprattutto se sei partito in Italia conosci gli organizzatori da tanti anni però io non mi posso lamentare neanche degli show italiani sono state volte in cui negli show sono tornato a casa molto contento con varie migliaia di euro di merchandising venduto poi magari c'era il gettone poi magari uno show uno sponsor con i bambini è venuto a vedere io ovviamente regalo le magliette sono sempre gentile con i fan perché mi piace perché sono il bambino che si vede e che si ricorda di come Big Show Undertaker John Cena mi facevano sentire quindi so che il bambino anche quando sarà grande avrà i cazzi suoi e la moglie si ricorderà del supereroe che non era Spider-Man ma era Red Scorpion sì perché se tu vai non so a Disneyland e vai a conoscere Spider-Man sai che non è il vero Spider-Man non rispetto Spider-Man come supereroe chi rispetti come supereroe Batman Iron Man te vai dove vai vai a conoscere Batman sai già che è una triste imitazione dell'attore numero 150 che lo ha interpretato se tu vai a conoscere Red Scorpion ci parli ci stringi la mano e di solito i ragazzi sono fantastici perché ti fanno domande come faccio a fare della mia passione il mio lavoro che allenamento devo fare quando dicono che i ragazzi non hanno sensibilità adesso loro vogliono sapere che non hanno direzioni tu gli parli e gli parli magari col tuo personaggio se serve un cazzo di lottatore mascherato vestito come una drag queen per far passare un messaggio ben venga e questo è umiliano umiliano quindi Red Scorpion sarà il primo vero italiano nella WWE? io me lo auguro fortemente anche noi beh c'è il fisico no anche noi per te anche noi per te ah ok ma io ti vedo come lo trovo abbiamo già la fai da carnivoro contro vegetariano ma vincerei lo so lo so evito per te di entrare a fare la WWE no ripeto il discorso è che ora come ora è un periodo meraviglioso per essere un fan di wrestling e un lottatore di wrestling ti faccio un esempio una volta se volevi essere lottatore di wrestling devi andare per forza in WWE adesso invece chiunque può essere il producer della propria immagine quindi ho una pagina Instagram che funziona ho una persona che mi segue con le telecamere che ovviamente stipendio per fare questa cosa qui che fa i documentari su di me che riprende tutti i miei incontri vado agli show negli show ovviamente magari a volte gli organizzatori non hanno i soldi per le telecamere perché hanno speso troppo in luce fuochi di artificio no no io ho il mio cameraman lui viene mi monta la roba mi registra il backstage mi fa il montaggio del match mi fa i documentari mi prepara gli shorts mi carica tutto sulla pagina cioè ora è un periodo meraviglioso per essere anche un lottatore indipendente perché se ti promuovi bene i soldi ci sono una volta o WWE oppure Giappone e in Giappone andai a prendere delle gran botte e basta però il sogno si se tu vai in WWE vuol dire che lì vieni riconosciuto potenzialmente come uno dei migliori al mondo cosa ne pensi di Logan Paul nella WWE mi piace è bellissima cosa pensi che avrà un grande successo continuerà ad avere questo successo e resterà a lungo purtroppo il wrestling è come qualsiasi genere di arte di spettacolo che ti prende ti succhia e ti sputa se domani Logan Paul la smettesse di fare wrestling a nessuno fregherebbe un cazzo e la gente continuerebbe a guardare il wrestling quindi cosa conta conta solo il presente e per quello che sta facendo cioè da persona che allena anche della gente tu sta portando pagheresti per avere degli allievi così questo è un super atleta che ha fatto lotta greco-romana e ginnastica sa parlare sa comunicare sa improvvisare sa creare sketch e sa anche farsi odiare che in WWE è fondamentale sono i cattivi che mettono i sederi sulle sedie non i buoni perché i cattivi perché la gente paga per vedere il buono che li prende a calcino in culo non ci può essere un grande super eroe se non c'è un grande cattivo il cattivo è fondamentale come in qualsiasi film è lo stesso motivo per cui Jake Paul va così forte è lo stesso motivo per cui il fratello Jake Paul va forte nella box perché tutti pagano è un genio sperano che chiunque lo prenda pugni in faccia e il problema è che è anche bravo e quindi la gente sta pure sui coglioni una volta abbiamo visto Logan Paul dal nulla tirare fuori un tirapugni bellissimo bellissimo era la notte in cui c'erano Logan Paul e Jake Paul che facevano entrambi l'incontro durante la stessa notte che era l'anno scorso ah sì c'è quindi uno di wrestling e uno di box esattamente e che poi Logan Paul ha preso l'aereo privato per arrivare sì 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 e Logan Paul a fine dell'incontro tira fuori il tirapugni e poi qual è la cosa bella che prende tutta una fetta di pubblico fantastica che sono quelli che guardano TikTok e Instagram eccetera e rendono il wrestling figo e poi arrivi nel mondo del wrestling dove ci sono queste megastars allucinanti perché gli tira il culo e torna Dwayne Johnson che arriva con una run in cui viene pagato 20-30 milioni di dollari per fare un match solo ma fanno gli ascolti più alti mai fatti e lui se ne va lasciando suo cugino che è Roman Reigns che attualmente è il lottatore più famoso che ci sia mai stato nella storia suo cugino proprio grazie di sangue sì certo proprio anche per la spinta che gli ha dato The Rock i numeri che fanno televisivi grazie a questo lottatore qui che tra l'altro fra parentesi è un lottatore che ha un problema al sangue alla leucemia e quindi deve fermarsi e tornare a combattere hanno creato una macchina da soldi incredibile quotati in borsa e fanno arrivare gli attori fanno i match con gli attori cioè preparano una scuola in cui preparano chiunque per diventare un fenomeno se ha le qualità adesso è il momento di far vedere Red Scorpion che mena Yuri dai non lo farò andiamo a votazione chi vota per Yuri dai su pubblico siamo in quattro siamo in tre ma se no però se vi menate voi io faccio l'arbitro non vado a sparare sulla croce l'abbiamo già fatto glielo scusami ma tu che facevi rugby posso dire che la cosa di prima del collo ma scusate oggettivamente è una così bella conversazione se voi volete mandarmi in galera se volete che io lo tiri su lo sbatta sul cemento facciamo una cosa facciamo no no facciamo facciamo una cosa questa è una roba safe anche in Giappone la chiedono sempre se sei un lottatore vengono gli sportivi famosi a prendere lo schiaffo dal lottatore professionista è uno schiaffo dato sul petto normalissimo potete scegliere il grado di forza da uno a dieci ovviamente dieci meglio di no perché rischio non è giusto e fa capire più o meno il grado di di dolore a cui il lottatore accetta di sottolineare fatelo da lì spostate senti questo microfono non lo so dici tu mi alzo si se rende a livello video si non rende proviamo però devi devi spogliare dai fai vedere il fisicone una vita di impegnarsi finalmente lo mostri dai stendi bene la tua già lui è lui si va benissimo quanto è grosso Gabriele sta per fargli malissimo cioè anzi è un dolore che poi va via subito proprio quindi è la cosa più safe che posso fare se poi vuoi me lo faccio dare anch'io come farlo devi dirgli la potenza mi sa dieci 9 7 tanto rilassati non ti irrigidire se non ti fai più male rilassati ecco questo io prendo l'avversario lo pianto nell'angolo no poi diciamo se sono stronzi li dico anche nell'orecchio sta per arrivare preparati questa per arrivare che si caggazone ok ti senti? no 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 peggio pensavo la botta era veramente forte no però la vera chop questa è quella fronata la vera chop è quella che arriva e tira aprendola così va e che arriva proprio qui voi immaginate di prenderne 10-15 per questo io dico no raga ma guarda guarda il segno che no no per questo io dico ma fate abbastanza male lo so è un 7 no puoi puoi tirarla anche a me no 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 non ho problemi anzi io lo prendo il vestito a me piace il cuore ragazzi ti è arrivato il momento sono arrivati i due momenti abbiamo raggiunto picchi veramente altri aspetta aspetta perché avvicinare il microfono no ti faccio felice humiliante no ammalissimo si gente sollevata fermi così no la foto la foto la foto di nuovo di nuovo si si l'abuso l'abuso posso farti una domanda si hai saltato no mi hai aiutato no anzi capisci quindi io posso attirarti su sopra e sono tendenzialmente non un big man nel wrestling quindi immaginati comunque 80 kg cioè non è che c'è proprio zero immaginati un gigante quando vedi quei lottatori che ti tirano su con una mano se ti mettono una mano nel posto giusto possono farlo pazzesco sono arrivati i due momenti il primo è questo no il primo è questo quindi se per favore la nostra maglietta la nostra maglietta da autografare e poi ovviamente te ne lasceremo una grazie me la lasciate bianca o nera? ma come potrei decidere? mi date un penarello? eccolo qua per me continuiamo la cosa che ti ha autografono sulla schiena no? no eravamo fuori l'abbiamo sempre fatto qua va bene allora niente mamma mia Iuri è incazzoso mi sposiamo se non hai preso uno schiaffo questo microfono mi odia purtroppo molto nervoso guarda mi metti l'occhio bello l'asta che su questa maglietta non mi vissarò e poi c'è il nostro secondo momento che è il momento in realtà è il momento sei pronto? non credo tu possa essere pronto perché non mi sembri uno pronto a questa tipologia di adrenalina io sto ricominciando a respirare devo fare bene no mi dispiace ma perché mi fate fare ste? io piuttosto le botte le prendo non è un problema però vorrei tu perché hai detto 7? potevi dire 3 perché 7 volevo provarla l'ottimo vera vuoi alzare un po' fa vedere un po' com'è adesso? vabbè tipo ceretta alza leggermente più che altro no beh niente pensavo più che altro quella è una quando ce ne diamo 10-20 è arrivato è arrivato della nostra forturruota allora se ti giri forturruota dietro di te dietro di te ci sono 6-7 spicchi ma riusciamo ad avvicinarla un po' alla nostra forturruota perché mi sembra bella lontana anche perché mi si incricca la massa ok eccolo qua come vedi ci sono 6-7 spicchi e il follower un follower che mettere a like e commentare a questo video potrà vincere una di quelle 6-7 cose che trovi là con te tu girirai quindi devo girerai aspetta sì esce qualcosa sì no no non da roba su cioè devi prendere uno di questo forza un po' bassa cioè non metterci la forza vabbè un po' più così è un po' ridicolo ragazzi decidete così è ridicolo così è ridicolo non devo rifare no vabbè rifalo rifalo ma se si rompe sono cazzivoso perfetto 100 100 100 ok 100 100 allenamento insieme sarebbe epico comunque 100 allenamento insieme sarebbe epico eh no è con te infatti eh sì chi lo vince vince la roba con te sì guarda guarda allenamento 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 insieme domanda allenamento di pesistica o di Vrestri no di Vrestri ovviamente quindi ecco cosa succederà uno dei nostri spettatori che commenterà metterà like a questo video eccetera eccetera lo sceglieremo uno che farà un allenamento tutti noi con te di Vrestri quindi verrete nella mia palestra sì esattamente perché le Scorpion ha una bellissima palestra e beh sì con i ringhi ci sono anche i bambini no ma è vero un uomiliante una volta dicevano che i comunisti mangiavano i bambini i Vrestri mangiano i bambini in realtà non sono i Vrestri sono i Vrestri tu non mangi carne perché mangi i bambini ho preso di te ho preso di te sei ossessionato dai bambini ragazzi allora a me piacciono i bambini e lo sappiamo ma no nel senso che il mio pubblico preferito sono i bambini perché sono un supereroe un po' stronzo un po' alternativo ma un supereroe oh Deadpool con una bella faccia però non si può vedere noi l'abbiamo vista noi l'abbiamo vista e infatti mi hanno detto che bel ragazzo che sei qualcuno non so che qualcuno l'avrà detto ragazzi grazie per aver seguito anche questa puntata di Mondo Cash di WW Cash di WW Cash grazie è stato un piacere grazie a voi siete fantastici mi dispiace tanto ti manderemo le foto che adesso ti denunciamo è stato bello è tutto documentato mi denunciamo e poi mando le foto dei documenti denunciando le magliette ragazzi alla prossima puntata di Mondo Cash 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 Grazie a tutti.